Il mio gioco Lei non è qui per giocare al golf Fuso nel 40 nella fonderia Weigenhaler DS Viene da una partita di Sicce Sparita nel 44 Quando i nazisti ficheranno in fuga Può procurarsene altri? Sì, dalla stessa parte Interessante Mancano due buche Ne siamo pari Hai niente in contrario ad aumentare la posta? No, hai qualche proposta da farmi? Il lingotto d'oro che l'ha portato con sé Vale 5.000 sterline Io metterò l'equivalente con tanti D'accordo Regolamento di gara? Naturalmente Grazie a tutti Wow Che sfortuna, è nell'ervale Oh, che peccato Eccola questa No, non è questa Ha giocato una numero uno Mi ricordo le regole, signor Goldfinger I cinque minuti sono quasi scaduti Per perdere la palla le costranno un colpo E la distanza Lo sto addestrando a fare il portapastone E con successo